Profumi, sapori ed emozioni che si intrecciano con la storia, l'arte e le bellezze paesaggistiche ed architettoniche del territorio. L'edizione 2021 di Frantoi Aperti punta a rafforzare anche quest'anno il legame tra produzioni tipiche e turismo di qualità, proponendo per le giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre l'apertura straordinaria delle maggiori aziende olivicole dislocate tra la provincia Batte e la città di Corato ad un pubblico di curiosi turisti ed appassionati di extravergine d'oliva. Spalancheranno le porte ai visitatori ben 11 storici produttori di olio, tra cui l'azienda Liso di Andria, la cooperativa lavorazione prodotti agricoli Terra Maiorum di Corato, il Frantoio Ouro di Trani. Con una novità, per la prima volta nell'ambito della manifestazione organizzata dalla strada dell'olio Castel del Monte, vengono proposti gli evo menù. Sino al 30 gennaio una platea di ristoratori d'eccellenza presenterà ai suoi clienti particolari menù con l'impiego di extravergine nostrano. Quella dell'olivicoltura, della produzione dell'olio è un'antica civiltà contadina che affonda le radici in epoca remota. Noi cerchiamo di declinarla in maniera contemporanea con la possibilità di degustare l'olio e i prodotti tipici nelle aziende, quest'anno molto più numerose del recente passato, nella domenica di dicembre dedicata, quest'anno cade il 12 di dicembre e da questa data in poi fino al 30 gennaio questi ristoranti, questi bistrò, queste masserie, i cui si hanno già predisposto i loro menù e che sono consultabili sul sito, sui social della strada dell'olio, propongono dei menù in una combinazione virtuosa con le aziende olivicole frantoiane che alla loro clientela, alla loro migliore clientela che il giorno di frantoia aperti ma non solo acquista o prenota olio extravergine e gli altri prodotti aziendali, offriranno un coupon sconto che potrà essere speso nei ristoranti che hanno aderito alla manifestazione. Mi pare un modo per creare un ambiente festoso e anche di attenta degustazione di uno dei prodotti principe dell'agricoltura dell'agroalimentare pugliese e del nostro territorio in particolare. La crisi di mercato che ha colpito il settore olivicolo non ha intaccato la qualità della produzione che anche quest'anno si attesta su livelli molto alti. La crisi dell'olio è una crisi che in parte è di mercato, in parte è di incapacità di superare alcuni sistemi di vendita e di commercializzazione e dall'altro però è un'annata questa, lo dobbiamo dire, di grandissimo elevato livello qualitativo dove non ci sono stati attacchi parassitari proprio anche per l'annata siccitosa che abbiamo avuto per cui è l'occasione più ghiotta per acquistare e per assaggiare, per provare, per chi non lo avessi ancora fatto venendo magari da altre zone che hanno retaggi di consumo oleario un po' diverso dal nostro, l'olio extravergine di oliva che ha la coratina come base della propria lavorazione. La maestria dei frantoiani e degli olivicoltori va valorizzata e va fatta conoscere a tutti i consumatori.